Amici e amiche di Sportme, buon inizio di campionato e benvenuti alla prima giornata del campionato Under 17 regionale. Al comunale di Giammoro si affrontano Valle del Mela e città di Taormina. Valle del Mela che si presenta con Mazzu, Chiarenza, Irato, Pagano, Arnò, Rizzo, Arimondi, Raffa, Pagano, Palme e Stagno. Risponde il Taormina con Gualberti, Milicia, Busà, Romeo, Sortino, Marini, Alessandra, Mollura, Resta Lunga, Cucinotta e Ghezzi. Incontro che oggi sarà diretto dal signor Karim Lafranca della sezione di Messina. Saluti fra le due formazioni e la carica del Taormina per l'esordio stagionale. E poi un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione nelle Marche. Ma adesso si può giocare e batte il Taormina. Il calcio d'inizio, calcio di punizione per il Taormina. Parte col destro Marini, pallone che si infrange sul palo. Prima azione sprecata per il Taormina che adesso rimette il pallone in aria. C'è il lancio lungo per il Valle del Mela. Perde l'equilibrio Marini che lascia spazio a Pagano che punta l'avversario. Ancora Pagano si sposta il pallone sul sinistro. Prova il tiro il nove ma non c'entra alla porta. Risponde così il Valle del Mela. Ancora Pagano che cerca spazi. Trova un corridoio per Rastagno che prova col tiro. Respinto da Gualberti arriva Palme ma super intervento del portiere del Taormina. Punizione Valle del Mela dal limite. Parte Raffa col destro. Pallone al lato. Avanza il Valle del Mela. C'è il controllo di Raffa che poi viene atterrato da Milicia in aria. E la Franca indica il dischetto del rigore. Sarà a penalti per i padroni di casa. Rivediamo il contatto fra il 2 e l'8. Dagli 11 metri si presenta Palme. Che insacca così il vantaggio del Valle del Mela. Non ci arriva Gualberti ed è 1-0 per i bianco-rossi. Corner Valle del Mela. Ce l'appoggio per Palme che adesso supera con un dribbling un avversario. Ancora Palme la sterzata in aria. Prova il destro. Fermato dal palo. C'è il primo cambio per il Taormina. Zoccoli prende il posto di Mollura. Possesso per i giallo-blu. Che qui pagano la pressione del Valle del Mela. Ce l'appoggio su Pagano. Ancora Pagano col destro. Alto sopra la traversa. Calcio d'angolo dalla sinistra per il Taormina. Respinge Mazzu. Poi si crea un po' di confusione in aria. Arriva alla conclusione diretta in porta. Poi in qualche modo si salva il Valle del Mela. Finisce così il primo tempo. 1-0 per i padroni di casa. Che adesso battono anche il calcio d'inizio della ripresa. Corner dalla destra per il Taormina. Arriva il traversone in aria. Va a vuoto la difesa del Valle del Mela. Recupera il possesso Busac. Adesso cerca un barco. Appoggia per Alessandra. Che viene fermato dalla traversa. Ma ancora insiste il Taormina. Sempre in zona d'attacco. Poi si salva in qualche modo. Ancora il Valle del Mela. Vince un contrasto buon signore. Che serve Gezi. Accelera ancora il 18. Prova una finezza al limite dell'aria. Poi carica il tiro. Bloccato tranquillamente da Mazzu. Alessandra vuole l'appoggio con un compagno. Si chiude la triangolazione. C'è un pallone perfetto per Romeo. Che manda in porta a Bonsignore. Ad un passo dall'1-1 il Taormina. Punizione affidata a Romeo. Che crossa in aria. Ne approfitta Bonsignore. Che insacca l'1-1 del Taormina. La pareggia con il numero 18. La formazione giallo-blu. Rivediamo la deviazione e il tap-in. Vincente ad un passo. Vince un duello il Taormina. Pallone buono per Alessandra. Che adesso accelera sulla sinistra. Si accentra benissimo il set. A tu per tu. Col portiere. Non sbaglia. Rimonta completata. Ed è 2-1. Per la formazione di Cali. Che passa a condurre così a Gian Moro. Possesso Taormina. C'è il cross deviato. Recupera il pallone Gezzi. Che adesso avanza. Mette un pallone in aria. Va a vuoto qui la difesa del Valle del Mela. Riapprofitta Alessandra. Che realizza la doppietta. E fa anche 3-1. C'è l'esultanza con Gezzi. Adesso tutti ad abbracciare i due. Avanza tranquillamente il Taormina. Sostituzione Taormina. Trischitta prende il posto di Alessandra. Possesso Valle del Mela. Che prova a recuperare il doppio svantaggio. C'è il pallone profondo a cercare Pagano. L'aggancio ancora Pagano. Batte Gualberti e fa 2-3. Accorcia le distanze. Il Valle del Mela. Rivediamo lo stop di Pagano. Il dribbling. E poi il destro. Che ha battuto Gualberti. Per il Taormina. Dentro Quartuccio. Fuori Marini. Rinvio affidato a Gualberti. Che vuole il lancio lungo. Ma c'è il trebice vischio di La Franca. Che assegna i primi tre punti stagionali. Alla Taormina. Prima vittoria che arriva. Grazie alla doppietta di Alessandra. E alla rete di Bonsignore. Sorride. Quindi la formazione di Calì. Che nel prossimo turno ospiterà la Folgore Milazzo. Per l'incontro valido per la seconda giornata di campionato. Grazie a tutti.